Io sostengo UG, Unione Genitori Italiani Contro il Tumore dei Bambini, del gruppo Ossolo Amici dell'UG, perché UG assiste e accoglie gratuitamente le famiglie di bambini ricoverati presso Regina Margherita Torino. Di notte sostiene la ricerca, mentre UG2 promuove attività rivolte ai cuori terapia sia a livello lavorativo che l'UG, quotidiano. Fate con me. Grazie a tutti.